Guerra aperta sulle strade dell'Unione Pedemontana, i veicoli senza assicurazione o non revisionati, in generale in costante crescita. In Italia le stime parlano del 6,3% dei veicoli in circolazione, circa 2,8 milioni di mezzi senza RCA. Da quest'anno gli agenti hanno uno strumento in più, una telecamera mobile con tecnologia OCR in grado di leggere le targhe in tempo reale, un mezzo che consente agli operatori di fermare le vetture fuori legge, condizioni necessarie per poterle sanzionare. Nel primo semestre di quest'anno la telecamera mobile ha permesso di pizzicare e multare 76 furbeti, oltre il doppio rispetto ai 36 dello stesso periodo del 2017. Un numero significativo, così come quello dei 255 veicoli sorpresi, sempre da gennaio a giugno, senza revisione rispetto ai 75 del primo semestre di un anno fa. Da tempo la polizia pedemontana, attraverso la rete di videosorveglianza Occhi Vigili, sulla quale ha investito 600 mila euro, ha iniziato a monitorare in modo capillare le strade dei suoi cinque comuni, ma queste due tipologie di violazioni devono essere contestate immediatamente. Di qui la necessità di dotarsi di un occhio elettronico mobile, costato 7500 euro. Tra mancate assicurazioni e revisioni nel primo semestre del 2018, sono state combinate multe per un totale di oltre 152 mila euro.